Stiamo già seguendo tutta la commessa di Atac, una flotta di 100 autobus e ibridi che arriveranno, anzi sono già arrivati da noi, il primo slot è già arrivato, quindi andranno a completare la fornitura di 100 autobus che consegneremo al cliente Atac. In questo momento stiamo facendo la parte del complemento, cioè tutto ciò che il controllo del veicolo pre-consegna, seguiremo anche la parte dell'immatricolazione, quindi anche la parte legata alla motorizzazione, i collaudi di accettazione da parte del cliente, dopodiché consegneremo i veicoli al cliente. La consegna è prevista all'inizio di giugno, detto questo noi avremo anche un'attività di full service che ci lega a questa fornitura per 10 anni, quindi faremo un'assistenza continua in casa del cliente, quindi all'interno del deposito del cliente per 10 anni. Loro ci hanno dedicato una parte di officina, quindi ci sarà una parte di officina per noi, avremo una squadra di persone che si alterneranno in tornazioni diverse perché quel deposito è attivo 24 ore su 24 praticamente, quindi noi dovremmo essere presenti in deposito dalla mattina alla sera e per 10 anni faremo una grande assistenza a questo grande cliente. Oltre che sono i primi autobus hybrid che arrivano in città, è la prima fornitura che Ada che assegna al fornitore anche col full service, quindi abbiamo una bella responsabilità.